Ha giudicato un altro appalto per 15 settimane in attesa della gara europea. Questa volta è stata scongiurata l'interruzione di pubblico servizio, almeno si spera, con determina firmata la dirigente del quarto settore a Medeo d'Eramo, pubblicata sull'albo pretorio del sito istituzionale del comune di Sulmona, è stata approvata l'offerta formulata sul MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, da Clean Service SRL di Teramo, per l'importo dei 34.690 euro, di cui 500 per costi della sicurezza aziendali, oltre onde di sicurezza non soggetti a ribasso, per 389,34 oltre l'IVA e quindi complessivi 40.995,69 euro. L'impresa si è quindi aggiudicata all'appalto inerente servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo di 15 settimane, a decorrere presuntivamente dal 18 marzo 2019 fino al 30 giugno 2019. Ma le addette a servizio di pulizia aspettano ancora prima di incandare vittoria, le ore di lavoro sono dimezzate e i contratti sono ridotti a lumicino. Nei giorni scorsi avevano lamentato anche un ritardo nel pagamento degli stipendi, che in alcuni casi non superano i 300-400 euro. Per questo il segretario della Filcams CGL della provincia dell'Aquila, Luigi Antonetti, ha chiesto un tavolo istituzionale per la questione degli appalti. C'è poi la questione degli stipendi a ritrati con la COP 2001. La quadra è stata trovata, ma ora le addette attendono le mensilità.